Allora, vi presento un'applicazione di un recommender system in ambito finanziario, un progetto sviluppato in collaborazione con Object Way Financial Services, una SPA che produce servizi per banche e società di gestione al risparmio in tutto il mondo. Siamo partiti da una considerazione quantitativa, cosa accade in un minuto sul web? Accadono tante cose, ne citiamo solo alcune. Vengono prodotti oltre un milione di tweet e ci sono 41.000 post che vengono rilasciati su Facebook. Fra questi 41.000 ci sono, se avete avuto notizia, di un esperimento di Massive Emotion Contagion che è stato fatto a giugno. Alcuni post sono stati generati e rilencati, riordinati all'insaputa di 685.000 utenti di Facebook. Quindi abbiamo preso in considerazione uno scenario in cui il sovraccarico informativo è il problema dei problemi. E questo scenario prende in considerazione uno dei limiti cognitivi principali. C'è un vecchio esperimento di Von Neumann che ha cercato di misurare la quantità di informazione che riuscì a dimagazzinare un uomo in tutta la sua vita. Per eccesso l'aveva stimata in 10 alla 20 bit. Poi c'è stato un esperimento molto più accurato di Landauer che ha stimato in qualche centinaio di megabyte, un 10 alla 9 bit, la quantità di informazione che riusciamo ad assorbire. Le nostre capacità cognitive. Al giorno riusciamo a gestire 126 bit di informazione ma siamo esposti a una quantità di bit che è oltre il triplo. Quindi abbiamo un problema di dover prendere delle decisioni in uno scenario in cui le nostre capacità cognitive non sono in grado di tenere testa alla quantità di informazioni entro le quali dobbiamo operare la nostra decisione. Il classico ago nel pagliaio. C'è un bellissimo TED Talk di Barry Schwartz che è intitolato Why More is Less che dimostra come la possibilità di avere quantità di scelte, un numero di scelte elevatissimo in realtà si traduce in una costrizione e in una propensione all'errore maggiore di uno scenario in cui il numero di scelte è inferiori. Il che, come dire, aggrava, per così dire, la situazione. Tant'è vero che Daniel Kahneman ha preso un premio Nobel di recente e ha lavorato molto con Tversky su un concetto di bounded rationality, appunto di la nostra situazione costante, quella di lavorare con una razionalità limitata, soprattutto nella memoria, ma con una quantità di informazioni che è ingestibile per noi. Ed è il classico caso in cui si trova un qualunque utente di home banking che abbia attivato la sua brava funzionalità per acquisire fondi, obbligazioni e altro. Questa è la prima schermata che il broker Doest Technology mostra a tutti gli utenti di un home banking, Fideuram, che è una delle banche del mio home banking. E questa è solo la prima schermata, infatti sono elencati in maniera non esaustiva i fondi che iniziano per A. Ci sono tante altre schermate. Quindi la nostra richiesta che è venuta da Object Way è la nostra soluzione proposta in vari scenari da una decina di anni a questa parte, ma anche più, e personalizziamo la ricerca. Cerchiamo di trovare l'ago del pagliaio sapendo però chi sta cercando quest'ago, quali sono le sue propensioni, i suoi bisogni informativi. E quindi cerchiamo di adattare i cosiddetti asset portfolio sulla base dei bisogni dell'utente e del profilo che appunto è noto al fornitore di servizi sull'investitore. E la soluzione prende il nome tecnicamente in una famiglia di servizi che vanno sotto il nome di Recommender System, che hanno una storia non troppo recente, ma con cui tutti quanti prima o poi abbiamo avuto a che fare, perché sono quei servizi che compaiono nella nostra vita sul web, quando per esempio affacciandoci su un sito, su uno shopping online, ci viene proposta questa frase, i clienti che hanno comprato questo oggetto delle banane hanno anche comprato insieme del latte, delle carote, del pane. Ci sono queste ammiccanti frasi che ci invitano a ricordarci di comprare qualcosa. La definizione di questa famiglia di servizi è stata data, una delle definizioni è stata forse quella più utilizzata, è stata data a Robin Burke nel 2002, il quale appunto definisce Recommender System come quei servizi che hanno lo scopo di guidare gli utenti in modo personalizzato verso oggetti che risultino interessanti e utili in uno spazio ampio di opzioni possibili, quindi siamo in una situazione di grandi dati, molti dati, troppi dati per le nostre piccole cervelli, per le nostre piccole memorie. Va bene, tutto questo per il nostro scenario? Direi di sì, anticipiamo la risposta. C'è un interessante libro che si chiama, è venuto fuori una decina d'anni fa, dal titolo The Long Tail, scritto da Chris Anderson, in cui c'è questa frase che è diventato un refrain per chi lavora sui Recommender System. We are leaving the age of information, we are entering the age of recommendation. Quindi l'informazione è troppa, è l'età in cui l'informazione, i dati che sono stati impropriamente paragonati al nuovo olio, al nuovo petrolio, in realtà non è proprio così, però non è così consumabile come risorsa, però la profezia è questa di dieci anni fa. I Recommender System sono diventati una tecnologia pervasiva, perché è utilizzata dalla maggior parte dei siti di e-commerce, di shopping come Amazon, che un anno e mezzo fa ha rilasciato i dati, il 35% del fatturato che Amazon fa proviene da quei 5 item che vengono suggeriti con quella frasetta e questa è stata la prima volta che loro hanno rivelato quanta parte del loro fatturato. Viene usato da LinkedIn, in cui gli item suggeriti sono le persone, viene usato da siti come Mitic, un sito francese di incontri, da Groupon, sono veramente pervasivi. Un caso clamoroso è la scomparsa dal nostro panorama cittadino dei negozi blockbuster. Da un certo punto in poi, qual è scomparso il blockbuster? Come? Vendevano un ottimo gelato dell'Hug and Daz? Cos'è successo? È successo che negli Stati Uniti un'azienda che si chiama Netflix, che è quella che ora produce di House of Cards, ha iniziato a consegnare a casa prima le videocassette, poi i DVD, poi lì la banda, non hanno problemi di banda larga, intesa come la banda di Caglione e Sapico, perché da noi c'è un problema di banda larga, lì funziona e te la fanno in streaming. Blockbuster, vecchio modello dei negozi fisici, lì in cui andare a prendere gli oggetti, si è trovata un po' spiazzata, si è trovata spiazzata qualcuno che aveva investito in blockbuster Italia, come Fininvest, ma questo è un altro discorso, è scomparso il blockbuster. Netflix, ahimè, ha annunciato che neanche per il 2015 darà il proprio servizio in Italia, perché noi abbiamo grossi problemi di banda larga, come ha ricordato Nelly Cross, il commissario europeo uscente, che ha ricordato che avevamo preso l'impegno di raggiungere 4 su 5 famiglie italiane con banda larga a 30 megabit al secondo al minimo e purtroppo siamo ancora a 1 su 5. In questo report di Neil Leavitt c'è scritto che even financial services firms recently began using recommender system to provide alerts for investors about key market events in which they might be interested. Un'altra profezia. Recentemente hanno iniziato. Le storie di successo venne raccontata, quella di Amazon non ci ritorno, ma per gli utenti Spotify la funzionalità di Discover è basata su questo tipo di servizi. Ci sono delle storie di successo meno, così, più serendipiche, meno attese. Una è che mentre noi festeggiavamo il Santo Stefano il 26 di dicembre 2013 Jeff Bezos registrava questo brevetto che si chiama Anticipatory Package Shipping. È un semplicissimo brevetto secondo cui Jeff Bezos si prende la libertà di mandare un libro non proprio a casa, ma nel centro logistica più vicino a sua disposizione, più vicino a casa nostra. Sta puntando, sta facendo previsioni. Come diceva Niels Bohr, le previsioni sono molto difficili, soprattutto quando riguardano il futuro. e in effetti cosa sta puntando? Sa già quale sarà il prossimo libro che noi richiederemo. E così punta al Just in Time, che è la panacea di tutti i logistici e supply chain. Dice, io te lo manderò prima ancora che tu saprai di desiderare quel libro. Un altro caso di successo, un po' più recente, venuto fuori nel 2013, è questo di Target, che è una catena che vende prodotti negli Stati Uniti. È un padre di un adolescente, di una quindicenne liceale statunitense, si vede ricapitare un package, un kit pre-mamam per la sua figlia, a nome di sua figlia. E ovviamente, però come si usa negli Stati Uniti, si rivolge a un legale, protesta, inizia a fare un'azione legale, salvo scoprire, poche settimane dopo, che sua figlia adolescente era in stato interessante. Quindi Target non aveva puntato, aveva l'85% di probabilità da alcuni indicatori che utilizza in base al tracking, al click-through analysis, cioè analizza i click degli utenti, aveva ricevuto questo alert da un recommender system, c'era l'85% di probabilità che questo utente adolescente fosse in stato interessante, quindi era conveniente economicamente regalarle un package. Ma perché è così difficile lavorare con questi recommender system, soprattutto in ambito finanziario? Perché c'è un pericolo che è sempre dietro l'angolo. I recommender system sono il paradiso dei chi fa marketing, perché sono in grado di individuare il gregge, consentitemi questo termine, di appartenenza in tempo reale. Il marketing si era scervellato per anni, facendo segmentazione offline, invece ci sono dei simpatici algoritmi basati sulla simmetria dell'informazione teorizzata dai premi Nobel Stiglitz e Samuelsson, che sono in grado di aggregarci, cioè di dire qual è il gregge a cui apparteniamo, e quindi sapremo dove andremo, quali saranno i cammini che percorreremo. Però c'è un problema, in ambito finanziario questo comportamento gregge prende il nome di flocking, cioè il problema di perturbare i mercati, cioè di indurre dei comportamenti indesiderati, perché tutti quanti investono o disinvestono sugli stessi titoli. Troppi utenti vengono spinti verso gli stessi suggerimenti. E questo comporta manipolazione dei prezzi. Altro problema che abbiamo dovuto affrontare è che spesso la situazione che il servizio si trova ad affrontare è che c'è scarsissima conoscenza dei prodotti da suggerire, ma anche degli utenti, clienti a cui suggerirli. Perché abbiamo poche peculiarità disponibili al sistema, sia per quanto riguarda le descrizioni delle cosiddette asset class, sia per quel che sappiamo degli investitori privati che dovranno fruire di questi suggerimenti. E allora la nostra soluzione è stata quella di pensare a una famiglia di recommender system ben basati su una vecchia cara tecnica di AI che è il case-based reasoning. Il case-based reasoning prende problemi simili, cerca di individuare problemi simili già risolti nel passato e questi sono in una base di conoscenza, non ha problemi di memoria al sistema come noi, per cui può ragionare per analogia, può implementare, utilizzare delle tecniche di inferenza, per esempio, basate su analogia. Quindi un processo di suggerimento di servizi, di prodotti finanziari potrebbe basarsi sul ritrovamento di casi simili di successo sull'adattamento di queste soluzioni per il secondo di desiderata degli utenti, clienti. Ma che cos'è un caso per noi? Un caso, nella nostra formalizzazione, un caso presente nella knowledge based, quindi un caso corrispondente a un problema già risolto è una tripla, una descrizione di un utente, una descrizione di un portfolio e una valutazione associata alla soluzione proposta. Facciamo un esempio, se l'utente è questo utente qui, potremmo avere a disposizione perché all'utente è stato sottoposto un questionario secondo la normativa MIFID, potremmo sapere che è un profilo di rischio basso che ha un'esperienza con gli strumenti finanziari elevata che ha una situazione finanziaria molto favorevole nel caso specifico di Zio Paperone che ha degli obiettivi di investimento a medio termine e anche degli obiettivi di benefici economici da ricavare di tipo medio, non si aspetta dei grossissimi ritorni. E quindi la descrizione di una soluzione potrebbe essere un portfolio in cui le asset class disponibili quelle che troviamo elencate sono come dire distribuite in percentuali che appunto sono quelle trovate nella descrizione e qui potremmo avere delle metriche che giudicano la bontà di questa soluzione nella knowledge base che nel caso specifico potrebbero essere la percentuale di interesse di guadagno che è stata realizzata in un arco temporale di un mese. Quindi ora lascio a Cataldo diciamo la seconda parte della presentazione perché sostanzialmente quello che abbiamo implementato è un ciclo di risoluzione in cui ogni nuovo utente che ha interesse a investire una quantità di denaro X diventa un nuovo problema in questo paradigma che si basa su una fase di ritrovamento in cui il gregge si chiama neighborhood tecnicamente è quello che va ritrovato in tempo reale è la fase di retrieval e poi c'è una fase di riutilizzo che consiste nell'estrarre dalla knowledge base i portfolio candidati quelli che hanno una valutazione una metrica più alta sulla base delle esigenze di utente. Questi candidate portfolio poi vengono ordinati si produce un ranking e questo elenco di suggerimenti viene dato al promotore finanziario il quale può prendere in esame cosa il sistema suggerisce e può iniziare una fase di negoziazione con l'investitore finale per definire quale sarà il cosiddetto final portfolio che sarà l'oggetto in cui effettivamente verranno reinvestiti verranno investiti quelle quantità di denaro a disposizione del piccolo investitore ovviamente è un sistema a ciclo chiuso in cui ogni nuovo caso risolto come dire problema risolto va ad alimentare e ad arricchire la knowledge base dei casi a disposizione del sistema e quindi è un sistema che apprende nel tempo con una strategia basata sulla memoria quella di cui non disponiamo è un sistema la è un sistema che che sa in che e sa